Volevo ringraziare gli amici dell'Albania a nome della nostra azienda che è la SST, Spedali Civili di Brescia. In modo particolare ringraziarli perché si sono prestati, si prestano in questa attività per noi molto importante all'interno del presidio dove sono ora, che è il presidio di Gardone e Valtropia. Il loro contributo è un contributo, come dicevo, importante perché oggi cominciano per il primo giorno, sono già inseriti all'interno delle parti e delle unità operative, meglio di così sono già in turno, quindi portano davvero quella che è la loro esperienza anche professionale all'interno delle nostre attività. Quindi grazie, grazie per insieme ce la faremo. Insieme ce la faremo. Insieme riusciremo.